Ellie, Ellie è una domanda semplice, condividi sì o no che io non sia una leader democratica. Giorgia ed Ellie non sono Thelma e Louise, non sono le amiche del film di Ridley Scott, non scappano dal mondo, che anzi vogliono governare. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, Ellie Schlein, prima segretaria donna del Partito Democratico, sono loro che vincono le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Nettamente il loro successo oscura i risultati di tutti gli altri. In secondo piano passa il clamoroso balzo in avanti della sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il flop del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, il sorpasso di Forza Italia con Tagliani senza Berlusconi sulla Lega di Salvini e del generale Vannacci, il suicidio politico di Matteo Renzi e Carlo Calenda, che divisi rimangono fuori dall'Europarlamento. Sono Paolo Celata e questa è l'ultima puntata di Euro 10, il podcast della 7 Tg la 7 che ripercorre la storia delle elezioni europee. Giorgia Meloni ed Ellie Schlein non sono amiche, ma capiscono che la loro rivalità conviene a tutte e due. Polarizzare la sfida, tornare a uno schema maggioritario semplificato, o io o lei. Per questo nei comizi elettorali prima del voto, la Presidente del Consiglio si rivolge platealmente alla rivale, la chiama, la invoca, la sfida. E l'altra non abbozza, ma anzi risponde rilancia. Pronte le due al faccia a faccia in televisione, saltato perché le regole della par condicio lo impediscono. Giorgia ed Ellie, fratelli d'Italia, alle europee in cassa il 28,8%, il risultato più alto della sua storia. Il Partito Democratico, con il 24 abbondante, torna a essere di gran lunga la forza con più consensi nel centro-sinistra. La distanza con fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si è accorciata, in modo significativo. Quindi il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni, stiamo arrivando. Ora la vera sfida per Ellie Schlein sarà lavorare alla costruzione dell'alternativa, perché se è vero che il suo PD ha dimostrato di essere in salute, ad oggi manca ancora una coalizione in grado di competere con il centro-destra. Troppi galli a cantare, divisi e messi in discussione anche all'interno dei loro partiti. Succede a Giuseppe Conte. Nei giorni successivi al voto, dentro il movimento, non pochi contestano la sua gestione. Tra gli esclusi eccellenti che non partono per Strasburgo, oltre ai leader di Italia Viva Renzi e Azione Calenda, ci sono Vittorio Sgarbi, Claudio Borghi e Alessandra Mussolini. Delusissimo Sgarbi, candidato con Fratelli d'Italia, protagonista di una campagna elettorale aggressiva su e giù per la penisola, con un pulmino ribattezzato Capra Mobile, come la sua celebre invettiva. Capra ignorante! Capra! 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 Parliamo tutti insieme! Apparentemente meno dispiaciuta, Alessandra Mussolini, europarlamentare uscente, al sud arriva terz'ultima nelle liste di Forza Italia, dietro a perfetti sconosciuti. In Europa non va l'euroscettico Borghi, nonostante la visibilità conquistata negli ultimi giorni prima del voto con le sue critiche al capo dello Stato Mattarella, per Borghi troppo filoeuropeo per rimanere al Quirinale. Se il Presidente davvero pensa che la sovranità non è più italiana, ma è dell'Unione Europea, allora la funzione di chi incarna la sovranità italiana viene a mancare. Ce la fa per un soffio il giornalista Marco Tarquinio, la candidatura più contestata all'interno del PD, per le sue posizioni pacifiste e contro la Nato. Tra i campioni di preferenze, il generale Vannacci ottiene più di mezzo milione di voti. Anche se la sua presenza spacca la Lega, in campagna elettorale si sono schierati contro l'ex ministro Centinaio, ma anche i presidenti di regione Fedriga e Zaia. Il capogruppo alla Camera Molinari, per il Partito Democratico, prende tanti voti al sud del sindaco uscente di Bari, Antonio De Caro. Nell'alleanza Verdi e Sinistra va benissimo Ilaria Salis, l'attivista antifascista detenuta in Ungheria da quasi un anno e mezzo, con l'accusa di aver aggredito militanti neonazisti. Sempre al sud fa il pieno di voti anche Mimmo Lucano. Alle amministrative svolte lo stesso giorno delle europee, viene rieletto sindaco di Riace, completando un percorso di rivincita personale. Tra i dati da ricordare, quello dell'affluenza da record negativo, 49,7 la più bassa delle elezioni europee. Ma cosa è successo fuori dall'Italia? In Europa le elezioni hanno provocato un autentico terremoto. L'Europa vira a destra, è il titolo dei giornali. In Francia vincono i sovranisti guidati dal giovane leader Jordan Bardellat, delfino di Marine Le Pen. Crolla il partito del presidente Macron, che la sera stessa del voto scioglie il Parlamento e convoca le elezioni il 30 giugno e 7 luglio. C'è perché, dopo aver proceduto a consultazioni prevute all'articolo 12 della nostra Costituzione, ho deciso di darevi il risultato di un avvenire parlementario per il voto. Macron dovrà resistere ora all'ennesimo assalto da parte della Le Pen. In Germania perde di brutto il cancelliere Olaf Scholz. Il suo partito, i socialdemocratici della SPD, precipita sotto il 14% superato dall'AFD, l'Alternative for Deutschland, partito di estrema destra con forti simpatie neonaziste. Ma la destra vince anche in Austria, dove i nazionalisti con il 25,4% diventano il primo partito, migliorando di quasi 10 punti rispetto alle precedenti elezioni. Tiene la sinistra del premier Sanchez in Spagna. Da fuori l'esito delle elezioni europee viene apprezzato da Vladimir Putin. I suoi principali avversari, Macron e Scholz, escono con le ossa rotte dal voto. Contento a metà però perché in realtà nel nuovo Parlamento, nonostante l'avanzata della destra, regge la maggioranza Ursula. Il Partito Popolare rimane il più rappresentato, seguito da socialisti e liberali. Il quarto gruppo è quello dei conservatori, guidato da Giorgia Meloni. Tutto questo l'abbiamo raccontato in una infinita maratona mentana, 22 ore di diretta in interrotta. Non so se un record, certo è stata una bella impresa. Ho contribuito, inizialmente collegato dal comitato del Movimento 5 Stelle. Lì, poco dopo le due del mattino, si è presentato il capo politico Giuseppe Conte. Una conferenza stampa breve. Non erano previste domande e sono riuscito a farne un paio al volo. Una. Il dialogo tra le forze progressiste? Sì, militari. Ma questo l'abbiamo detto prima, non dipende da un appuntamento elettorale. Abbiamo detto sempre, in tutte le occasioni, per quanto ci riguarda, che il dialogo con le forze progressiste, ovviamente, è affidabile e diventerà sempre più intenso, man mano che dovremo assumerci una responsabilità di offrire un'alternativa rispetto alle forze di governo, che, a quanto vediamo, escono in qualche modo rafforzati da questo voto. Quindi, addirittura, le ragioni del dialogo si rafforzano. In Europa conquistarete? In Europa saremo nell'area progressista. L'ho detto, adesso in questione valuteremo. Fateci un attimo adesso attendere lo spoglio definitivo. Conte ha ammesso la sconfitta dolorosa, disponibile al dialogo col Partito Democratico. Fine. Comitato chiuso, tutti a casa. Se ne riparla lunedì in giornata. Insomma, io potevo andarmene serenamente a farmi un bel pisolino rigenerante. Grazie Paolo, lì mi pare che chiudono, no? Eh sì. Vabbè, ti aspettiamo in studio. Sì, qui stanno chiudendo. Figurati, Mentana m'ha convocato in studio, dove poco dopo è arrivata anche Alessandra Sardoni. Siamo rimasti noi tre lì a commentare dalle tre fino alle sette meno venti con il contributo di Marco Piccaluga, collegato col cervellone del Ministero dell'Interno, che sfornava dati un po' al rallentatore. Poi noi a letto, Mentana in onda. Fino alle 20 e 30 di lunedì. Il record della maratona, se non lo ha fatto per la lunghezza della diretta, magari in Corea o Giappone qualche conduttore ha resistito più a lungo, lo ha stabilito per gli ascolti. La sette tra domenica e lunedì. Per diverse ore è stata la rete più vista. Bene, è andata anche propaganda live. Diego Bianchi ha fatto meglio dello speciale Elezioni di Vespa sul Rai 1. Contento personalmente di aver dato il mio contributo. in onda dalle 22 e 40 di domenica fino all'1 e 20 di martedì. Io sono Paolo Celata e questa è l'ultima puntata di Euro 10, il podcast della sette Tg la sette che ha ripercorso la storia delle elezioni europee. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast